Ciao, io ci siamo, adesso andiamo a calare i bucatini all'interno del sugo della matriciana e poi andremo a impiattare, ovviamente dopo aver fatto una buona sparmaggiata di pecorino romano buccianiera. Che cosa non è, bucatini assassino, a livello di cottura sembra che quasi è crudo e poi all'improvviso rischiamo di farlo diventare scotto e poi è assassino anche perché è quel tipo di pasta che ti fa sempre sporcare ma noi saremo più intelligenti di lui, non ci faremo sporcare, mai dire mai. Adesso pronti per l'impiattamento, aiuto. prendiamo grande sformaggiata di parmigiano, chiedo scusa grande sformaggiata di pecorino mamma mia che cosa non è, pronti per l'impiattamento? ecco. metto per l'impiattamento, aiuto per l'impiattamento, aiuto per l'impiattamento, aiuto per l'impiattamento, mettiamo il nostro bel ganciale, trasformaggiata per l'impiattamento, a trasformaggiata e via per l'assaggio. e che ve lo dica fa